La sagra di qualità diciamo che è stata istituita a livello nazionale dalle Proloco d'Italia proprio per premiare quelle iniziative di quelle Proloco che usano tutti i prodotti tipici della zona per far così che anche l'economia nostra, anche nei piccoli paesi, abbia un valore e venga riconosciuto perché abbiamo tantissime specialità da poter far valorizzare e far assaggiare a tutti. E questo insomma è il turno proprio di questa sagra parrese, la sagra di questo prodotto tipico lei che rappresenta le Proloco di Lombardia, insomma che impressione le ha fatto venire qui a Parre e magari già vedere qualcosa di questi scarpinotti? Beh guardi mi è fatto tantissimo piacere venire qua a Parre perché ho trovato un ambiente veramente sano un ambiente adatto a questa iniziativa che stanno promuovendo per avere questo marchio di sagra di qualità e devo dire che le Proloco, specialmente oggi siamo a Parre, parliamo della Proloco di Parre è da ammirare per l'impegno che ha, è vero che le Proloco devono tutelare il territorio ma è anche vero che abbiamo tantissimi volontari che amano il territorio e questa è la forza delle Proloco e ci teniamo molto a questo e speriamo che il buon esempio continui anche per le nuove generazioni. In Lombardia abbiamo più di 600 Proloco, figliate a noi, e dopo questa pandemia di due anni è bello vedere la gente insieme scoprire i nostri territori e Parre fra questi è in testa e complimenti a Parre. Come stanno le Proloco Lombarde? Le Proloco Lombarde sono un po' preoccupate delle varie riforme che stiamo vivendo con la riforma del terzo settore però devo dire che c'è quell'entusiasmo e quella forza che ci permetterà di andare avanti e di far sì che i nostri territori vengano conosciuti, eccoci, questo è l'augurio che noi facciamo e ci aspettiamo, diciamo, dell'autorità, della politica, un riconoscimento verso questo volontario è un volontario che a volte nei piccoli paesi è segno di compagnia, dove si sconfigge la solitudine e questo è importante, l'abbiamo vissuta, diciamo, questa esperienza con il Covid ma adesso riscopriamola che tra tutte queste iniziative vanno benefici di tutti. Parliamo anche a livello provinciale di Proloco, anche lei questa Gia Parre per cercare di certificare insomma questa sagra che mi sembra già ben organizzata. Sì, la sagra è benissimo, è bella, è organizzata stupendamente, dopo Castro ci sarà sicuramente Parre che sarà riconosciuta come sagra di qualità e questo è un vanto per le Proloco Bergamasche. Quante sono le sagre certificate con questo marchio in Bergamasca? Intanto sono solo due, quella di Castro e questa di Parre, che io l'ho già per confermata. Prima abbiamo parlato di Proloco, di spirito, di gruppi, invece come stanno le Proloco in Bergamasca? Sì, è un momento di ripartenza, le Proloco sono ripartite tutte e hanno ripreso a fare le loro manifestazioni. L'unico guaio, problema è queste tutte commissioni pubblico spettacolo e piani di sicurezza che molte Proloco hanno fermato le loro attività. Sì, perché c'è davvero un protocollo rigidissimo da rispettare per questo tipo di festa. Purtroppo sì, è un protocollo molto rigido, specialmente se non c'è il Comune una commissione pubblico spettacolo interna per forza fare quella provinciale e sapendo che tutte queste normative vengono lette, non vengono interpretate, vengono lette e messe in opera, è un handicap per le Proloco. Diciamo che, visto le ristrettezze che accennava prima Bellini sui permessi che ci sono e dove noi auguriamo sempre che ci sia una disponibilità dell'amministrazione comunale a aiutare le Proloco, a livello nazionale abbiamo presentato in Senato una petizione per una legge in merito a queste feste occasionali, queste feste popolari, proprio per agevolare, per l'amor del cielo, senza togliere la sicurezza, ma per agevolare anche il nostro operato per organizzare queste feste. Eccoci, mi auguro, è stata sottoscritta da tutti i partiti. Nel 2019 a dicembre l'abbiamo presentato, poi è successa la pandemia e si è bloccato tutto. Speriamo che adesso dopo le elezioni la riprendano in mano.